Con la tenacia e la caparbietà che la contraddistingue, reduce da un mondiale che ha riscritto la storia del calcio femminile, si è distinta anche sui banchi. E Laura Giuliani, portiera della Juventus e della Nazionale Italiana, che a Coverciano, dove era in ritiro con le Azzurre, ha ricevuto una borsa di studio dall'Università Telematica San Raffaele di Roma, dove è iscritta al terzo anno della Facoltà di Scienze, Motori e Curriculum Calcio. Subito dopo l'esame mondiale sei arrivata in Italia ed hai affrontato un altro esame, forse anche più difficile da un punto di vista emotivo, quello di medicina del calcio. Come l'hai affrontato, in che modo hai studiato, conciliando ovviamente gli impegni di un campionato mondiale? Era un esame che avevo già dato precedentemente, però non ero soddisfatta del risultato, quindi ho voluto ridare. Durante il mondiale avevamo anche tanti tempi morti, quindi comunque invece che dedicare il mio tempo ad altro, lo dedicavo allo studio. È una materia che mi piace tantissimo, che mi interessa molto, quindi l'ho fatto anche molto volentieri. Perché hai scelto questo corso di laurea che ti hai fatto? È un corso di laurea unico in Italia che ha istituito l'Università San Raffaele, appunto, in collaborazione con l'Associazione Italiana Giocatori Calcio. Perché questo corso? Ma questo corso mi ha subito presa sotto il punto di vista della quotidianità, nel senso che comunque mi ispirava molto l'idea di studiare quello che io facevo quotidianamente nella mia vita di tutti i giorni. Quello che io vedo, faccio e studio lo ritrovo poi nei miei esami quotidiani. Laura, fuori gioco. Quanto nella vita sei una donna indifesa, che poi è il ruolo di fatto che ti contraddistingue in campo, o quanto sei invece attaccante? Ma credo che nella mia vita sia un po' entrambe le cose, nel senso che sono una molto puntigliosa, molto attenta, molto precisa, come deve essere un difensore, no? Sui movimenti, sulla lettura delle cose, dell'azione. Però dall'altra parte mi piace anche molto attaccare, nel senso che nel momento in cui tu mi attacchi io ti attacco di conseguenza. Dall'altra parte però sono molto mediatrice, nel senso che non vado molto allo scontro, sono più per la pace, fra virgolette. Nel senso che preferisco io fare magari un passo indietro piuttosto che andare allo scontro con la gente. Una donna in un mondo di uomini, come vedi il calcio da donna? Il calcio femminile non è il calcio maschile prima di tutto, è un calcio diverso, è un calcio pulito, è un calcio effettivo, nel senso che le regole che tu studi a scuola, quando sei alle superiori, il calcio è questo, il regolamento è questo, tu te lo ritrovi poi effettivamente nel calcio femminile. E questa parte pulita credo sia ancora una cosa quasi difficile da trovare nel mondo d'oggi, perché il calcio maschile viene visto molto come business ultimamente, il calcio femminile viene visto come il calcio della passione, della voglia, dell'orgoglio. Cosa farai da grande? Ma da grande mi vedo fuori dal campo, ma sempre con un piede dentro e un piede fuori, dai mettiamola così, nel senso che mi piacerebbe molto entrare a far parte dello staff amministrativo, dirigenziale di una squadra. A complimentarsi personalmente con Laura Giuliani, anche per i meriti didattici ottenuti, il presidente dell'Università Telematica San Raffaele di Roma, Sergio Pasquantonio. Una borsa di studio, di merito e non perché lei fosse la migliore portiera e quindi perché ha una media alta e quindi unisce a quello che è lo sport, e quindi quello che è la sua professione di portiere della nazionale, ma anche la forza di poter studiare e di poter poi un domani essere un bravo amministrativo di una società sportiva.